Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questi giorni si parla molto di aperture. Per aperture del paese, dell'attività del paese, della vita, non dico male, ma più o meno un po' meglio di quella che è attuale. E si parla di aperture anche per quanto riguarda il calcio, che per il calcio coincidono con l'apertura degli stati. È un tema molto delicato che ha visto solo una piccola parte, una piccolissima parte di apertura, nella fase estiva, praticamente nella parte di campionato finale, da luglio in poi, più o meno un paio di mesi, con i mille spettatori. Facendo un passo indietro, l'apertura nel paese, in Italia, ma anche in Europa, a seconda di quella che è la situazione epidemiologica dei vari paesi, è una situazione molto delicata, un discorso molto delicato che deve in qualche modo mettere sulla stessa equazione, sullo stesso piano, sullo stesso bilancio, diciamo così, quelli che sono i temi di sanità pubblica, di salute pubblica, quindi legati all'andamento della pandemia, in modo da evitare che ci siano ulteriori contagi, e quelli che sono le necessità puramente economiche. Cioè il fatto che, chiaramente, le attività devono aprire per generare profitto per chi ci lavora, per il paese stesso, tramite il pagamento delle tasse, l'indotto, chiaramente, di tutto questo giro, quindi i cistoranti, i cilio, ma tutto ciò che ne consegue. Chiaramente, per ora, il discorso è stato, non voglio entrare nel merito di come è stato fatto bene o male, ma, fondamentalmente, con i sostenibili da parte dello Stato, le attività, o mai i titolari di attività, hanno in qualche modo resistito, per ora. Poi non voglio, ripeto, mettermi nei panni di chi lo sta facendo, non voglio dare giudizi su quanto è stato fatto, però, fondamentalmente, è così la questione, così come le casse integrazioni per i dipendenti di lavoro subordinato, come è successo, ad esempio, nel mio caso. Detto questo, quindi, ci sono vari temi, è un tema molto delicato, che, se per l'apertura delle altre attività è un tema che non affronteremo in questo video, sicuramente possiamo affrontare il tema degli stadi, che ci compete, non perché ci compete effettivamente a noi, ma, piuttosto, perché ci interessa, perché siamo tifosi di caccia. La prima notizia, e che dovrebbe avere una valutazione, mi pare, del 19 di aprile, è quella sull'apertura dell'Olimpico per le partite di Euro 2020, barra 21, perché poi alla fine è stato spostato. La UEFA ha detto, ha obbligato tutti i paesi che appartenenti, sapete che Euro 2020 è itinerante, quindi si girerà per diverse capitali europee, ha detto che è obbligatorio che si possa garantire almeno il 25% di presenze all'interno dello stadio. Per l'Olimpico, che ne conta tra 60 e 70 mila posti a sedere, il 25%, chiaramente, è un numero intorno ai 15-18 mila, è un numero abbastanza elevato, perché non sono i mila famosi, mila a prescindere dagli stadio, ma è una presentuale di un quarto rispetto alla capienza, è non importante che, chiaramente, quindi, per ovvi motivi la FIDC ha chiesto al governo di dare una risposta in modo che possa, a questa volta, la FIDC dare risposta all'UEFA e avere l'ok, perché senza questo ok, fondamentalmente, ci tolgono l'Olimpico dalle tappe di Euro 2021, che sarebbe comunque un danno, perché, parliamoci chiaro, per quanto il 25% non conta tanto di per sé, cioè, effettivamente, non è tanto i biglietti paganti e l'indotto, comunque, cospicuo, importante, però non eccessivo che faresti con uno stadio pieno, quanto, piuttosto, la visibilità di quello che è un prodotto calcio, comunque, italiano, che presenta, comunque, uno stadio, anche abbastanza vecchiotto, ma che lo presenta, comunque, adatto, a ospitare eventi del genere. Quindi, la visibilità sul Paese Italia, sul calcio Italia, che sarebbe molto importante per tanti altri discorsi. Comunque, è la competizione più importante a livello europeo e delle nazionali, perlomeno, quindi, mi pare anche giusto dare un riflettore importante, un faro riflettore importante sul nostro Paese, sul nostro calcio, che problemi ne ha tanti. Chiaramente, aspettiamo la risposta e, forse, l'avremo e, sicuramente, secondo me, sarà positiva, perché, comunque, è chiaro che parliamo di un europeo che si giocherà a giugno. Di qui a due mesi, la situazione della pandemia potrebbe essere migliorata, forte di quello che è, e speriamo che sia forte la campagna vaccinale, e dell'arrivo dell'estate, che, come sapete, ha avuto, almeno l'ultima estate, ha avuto un effetto benefico sul tamponaggio, sul ralentamento della pandemia. Speriamo sia lo stesso così, però i numeri sono ancora arrivati, non necessariamente, perché stanno un po' abbassando, però, chiaramente, da qui a giugno, si spera di essere in una situazione ideale, e non dico di vita pre-pandemia, ma, perlomeno, ideale rispetto a quanto stiamo avendo ora. Oltre a questo, si aggiunge la discussione, ma, ok, Euro 2021, 2020, 2021, sarà così, ma i club cosa fanno? E, chiaramente, in questi giorni si sta ragionando sull'apertura degli stadi, perché, poi, fondamentalmente, se per Euro 2020 è più un discorso di visibilità, intorno agli stadi, proprietà, e non proprietà, ma, comunque, soprattutto, di proprietà dei club, c'è proprio anche, come dire, materia prima, cioè, alcuni club, come il nostro, non dico che vivono di stadio, ma, fondamentalmente, rintroiti dai biglietti, dai cavi da gara, sono molto importanti, c'è stato un grosso calo di questi, cioè, un azzeramento di questi importi, che ha portato, chiaramente, i bilanci a soffrire parecchio, perché, poi, ricordiamoci che lo stadio, almeno il nostro, che è veramente all'avanguardia, lo stadio ha 40.000 posti, ma, poi, ci sono i ristoranti, ci sono tutti gli indotti intorno, il centro commerciale, i trasporti, cioè, in tutto particolare, quando c'è un evento calcistico, per quanto Torino sia una grande città, comunque, ma sono 40.000 persone che si muovono da fuori di Torino, da Torino, che consumano, che mangiano, che bevono, che si divertono, che comprano magliette, comprano merchandising, visto nel museo, l'indotto è particolare, è pazzesco, è particolare, non sono solo i ricavi fissi, praticamente, perché, poi, alla fine, il biglietto è quello, più o meno, e che vanno a moltiplicarsi per gli utenti, per i 40.000, ma c'è di più, quindi, è chiaro che, poi, l'indotto è importante nell'evento gara, e i club, alcuni ne soffrono, a tal proposito, c'è stata, recentemente, ieri, l'altro ieri, l'incontro, in lega Serie A, di tutti i club, dei presidenti dei club, chiaramente, da qui, voglio aggiungere una piccola postilla, ha avuto, da quello che si legge, leggo da Calci e Finanza, ha avuto, da ridire in modo pesante, il solito De Laurentiis, che, chiaramente, lamentandosi di diverse cose che non vanno, secondo lui, dal VAR, eccetera, eccetera, poi, ricordando che De Laurentiis, non di quello che, in lega Serie A, ha più peso di altri, ma questo, forse, lo dimentica, dice che, che a lui non interessa, tanto, dei corrispettivi dovuti ai diritti TV, anche se, parliamoci chiaro, sui diritti TV, i bilanci delle società, praticamente, si poggiano sui diritti TV, non su altro, perché puoi poggiarti sulla compravendita, quindi, sul calcio mercato, sull'utilizzo di plus valenze, ma quelle non sono infinite, non sono neanche, spesso, neanche indice di salubrità del bilancio stesso, perché, spesso, possono esserci dei giochi, diciamo, particolari, per gonfiare questi numeri, quindi, è chiaro che, la maggior parte dei club, tutti i club, si basano sui diritti TV, più dei premi, più di ricavi da gara, specie, chi non ha lo stadio di proprietà e chi non ha un folto mercato di vendita, di merchandising, eccetera, eccetera, cosa che la Juve ha, o l'Inter e il Milan hanno, quindi, oltre a questo, e dice che, cosa mi interessa dei corrispettivi se non li portiamo alla gente di stadi, non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti, ora, questa cosa qua viene estrapolata e viene detta come una testimonianza di chi c'era in questo incontro, in questa riunione, la cosa che fa, se fosse vera, beh, delinea un'altra volta quello che è il personaggio sul quale non voglio dilungarmi, perché dice delle banalità, oltre al fatto che ho detto prima, ma anche il fatto di riportare la gente di stadi, mi sa un po' di populista come dichiarazione che non fai una riunione in cui hai davanti 19 presidenti di Serie A che non ne frega un cazzo alla fine dei nostri sentimenti, quando piuttosto si sta parlando di cifre, di numeri, di dati, di cose importanti, serie che tra persone ai vertici dei vari club sono temi importanti che vanno, secondo me, affrontati con serietà, non dicendo se non riportiamoci dei stadi, non è quello il crucio per un dirigente, il dirigente deve fare l'interesse della Juventus, del Napoli, del Lazio, per come azienda, poi è chiaro che la gente va riportare dei stadi, perduti i motivi di prima, però diciamo che queste esternazioni qua non sono consone all'ambiente in cui si trovava, poi non farci iniziare il campionato che vengono già tutti, lo faccia, perché tanto non avrebbe nessuna risposta, perché poi quindi e quindi, diciamo che ha un po' scatturito la cosa, tanto che D'Alpino, che è il presidente della Lega Serie A, ha fatto una richiesta formale al governo per sapere dell'apertura, tanto che vorrebbe la riapertura dei stadi già nella fase finale, ora, se la riapertura dei stadi fosse dei mille dei famosi mesi estivi, fondamentalmente sarebbe una cosa inutile, parliamoci chiaro, quei mille là non hanno mosso di una virgola o forse solo di una virgola la lancetta, i ricavi, gli indotti, perché sono mille persone, tra l'altro spesso selezionate tramite particolari, quindi non è che è facile per me, uno qualsiasi, senza magari dei vari agganci o tramite socios, arrivare allo stadio, quindi è chiaro che è una cosa, è un giochino in cui mille letti vanno allo stadio, quindi diciamo che poi alla fine non è molto semplice, e quindi appunto per questo non sono i mille che fanno cambiare le cose, ma fanno cambiare le cose se invece, come propone Alpino, si pensasse già a una formula come Euro 2021, cioè il 25, una percentuale di capienza importante, parliamoci chiaro però, qui subentra quello che è il mio pensiero, tutto è valutato, il governo deve valutare in base alla situazione pandemica, epidemiologica, ma valutare la stessa cosa per tutte le attività, a seconda chiaramente del potenziale rischio di contagio, perché se è vero che nello stadio si sta distanziati con le mascherine, poi parliamoci chiaro, parentesi, chi va allo stadio, insomma, non credo che abbia per forza di cose un'estrema cautela utilizzare le mascherine, non è che possiamo sempre fare affidamento sul buon senso, perché da un anno che chi ci governa fa affidamento sul buon senso e siamo ancora qui. Quindi ipotizzando comunque che comunque questi personaggi, queste persone, utilizzassero le mascherine al 100%, tutto quanto, magari anche con altri controlli, eccetera, il problema degli stadi non è tanto lo stadio, ma è lì fuori dello stadio, perché la gente si incalca fuori, che sia nei locali limitrofi, nei mezzi di trasporto, appena fuori, in attesa, quindi è lì il problema. È un po' come il discorso delle scuole, la gente non si contagia nelle scuole, ma in autobus per andare a scuola. Quindi è chiaro che bisogna anche fare delle valutazioni e faranno delle valutazioni a seconda del tipo di attività. Chiaramente uno sgabuzzino, cioè un bar a forma di sgabuzzino che tiene 10 posti dentro è molto più rischioso magari di una sala, ristorante che ha 200 coperti di cui ne può riempire 50 per le nuove disposizioni Covid. Quindi è chiaro che ogni cosa è valutata a seconda di quello che è il mondo. La cosa che potrebbe dare fastidio a noi, che siamo persone comuni, è che grazie a queste spinte di un mondo del calcio che ha sicuramente molto potere, si abbia nei confronti del calcio una via preferenziale a discapito di magari, e chiaramente qui sono anche in qualche modo comprendo anche i pensieri di chi magari verrebbe rallentato. Altri tipi di attività che non hanno il giro di soldi magari del calcio verrebbero sicuramente rallentate. Quindi è chiaro che sì, gli stadio vogliamo aperti perché sì, vogliamo usufruire in qualche modo anche noi dello stadio e vogliamo rivedere il calcio così. Però da parte, adesso parlo più da cittadino che più da tifoso, spero che questa cosa qua non sia dettata dalla spinta che la lobby calcio passatevi il termine fa, ma dettata da quella che è l'equità a seconda di quello che è il mondo, cioè se il mondo del calcio è un mondo sicuro dal punto di vista del contagio lo si riapra perché è sicuro di per sé, non perché qualcuno ti spinge a riaprire. Questo è un concetto molto, molto, spero che sia molto chiaro ma che condivido che penso veramente fermamente perché poi alla fine è spesso questa cosa qua è alla base dei malumori. È un po' come il discorso della vaccinazione che ogni categoria cerca di arrampicarsi per avere il vaccino prima, magari di scapito di quelli che sono malati ma almeno sono più vecchi e quindi vedi gente di 70 anni che aspetta, rispetto a gente molto più giovane che fa parte di una categoria come in certe regioni che ci sono certe categorie che fanno pressioni per avere il vaccino a prescindere l'età. Quindi è chiaro che questa cosa qua deve essere ragionata in un contesto paese non in un contesto categoria. Questa è una cosa che a me premerebbe molto. La cosa è secondo me che se la campagna vaccinale va bene se tutto va a secondi piani se il virus cala e magari non so muti qualcosa di più soft che è la speranza di tutti è chiaro che a settembre con il ricominciare del campionato prossimo si potrà avere una graduale entrata di stadio è quello che mi auspico quello che mi auguro perché siamo abituati a un calcio da un anno e mezzo vuoto ma effettivamente non è bello uguale parliamoci chiaro ci tifa la squadra la passione resta per la squadra per la maglia ma non è uguale ma non solo perché va allo stadio ma anche per chi lo vive da casa in televisione c'è un surround in senso come suono diverso e questo ci percepisce ora quindi chiaramente questa è la mia opinione sull'apertura dei stadi che spero che sia a breve sia fatta a breve ma come tu prima tenendo conto di quella che è la situazione attuale per tutti e non quella che è la spinta della categoria calcio poi è chiaro che dove si muovono più soldi tendenzialmente ci sono delle agevolazioni maggiori questo perché poi anche l'economia ha il suo peso però bisogna sempre bilanciare tutti gli interessi di tutti è difficile ma in questo momento forse darebbe un po' di un'idea di coesione anche nazionale più importante e il calcio secondo me ne verrebbe fuori anche un po' meglio perché in un mondo in cui generano tanti soldi l'obiettivo dovrebbe essere fare dei sacrifici e non cercare delle scappatoie per uscire prima comunque il calcio ha fatto dei sacrifici importanti perché è sempre stato chiuso con i stadi e ne farà ancora quindi questo è di valuto atto però ecco tipo le esternazioni della De Laurentiis fanno male perché poi alla fine si percepisce veramente si butta si getta veramente il discorso a slogan vi denuncio tutte queste cose fanno malissimo al calcio alla costruzione di un calcio nuovo perché poi di quello si tratta è una riapertura graduale e corretta e in sicurezza perché poi parliamoci chiaro noi parliamo dello stadium che è sicuro perché sicuramente ha delle non in sicurezza particolari ma ad esempio De Laurentiis deve fare sì qualche domandina sul fatto che il suo stadio sia giusto e corretto affinché si possa riaprire in sicurezza anche il suo di stadio su questo vorrei veramente fare un'analisi più approfondita qualcuno che mi dicesse che effettivamente è così che tutti gli stadi sono uguali anche questo sarebbe una vera veramente una bella analisi una bella approfondimento detto questo aspetto che vi sentite i vostri commenti sulla riapertura degli stadi prima per quanto riguarda la nazionale Euro 2020 barra 21 poi vedete voi come chiamarla poi per il tema riapertura a stadi dei club della Serie A eccetera eccetera aspetto i commenti come sempre forza Juve e alla prossima ciao siamo sempre qua storie in bianco e nero dove abbiamo solo un ruolo fisso da comparsa e alla prossima ciao Grazie a tutti.